A Sondini e Luisetta ci hanno voluto raccontare tutto quello che succedeva in una di tante regione di Pescina, la nostra città. Ce l'hanno raccontata, esaltata, evidenziata, coscenette, monologo, due testornellate, tante da faccia pensata, ma tutto questo non c'è stato. Ma che l'evoluzione e la globalizzazione? Tutti i mondi è diventata in una grossa regione e noi che potremmo fare? Un po' a Facebook ci chiamo a scornare. Andone, andone, vai, vai, vai a continuare a raccontare.